Sicilia Sicilia, Ceramonte e Gulfi, Gulfi, l'identità, la territorialità, la tradizione dei vitini siciliani in questa grande e piccola realtà di grande qualità. Le loro qualità, l'utilizzo di vitini ancestrali, il non irrigare i vitini, il stallatico e l'alta densità ne fanno di questo un'azienda unica, rara, di grande qualità e di estrema personalità e territorialità. Vi accompagnerò in un piccolo viaggio attraverso cinque degustazioni che vi fanno capire quello che è la realtà dell'identità dell'azienda Benicola Gulfi.